E noi torniamo a parlare di musica, lo facciamo andando a vedere le immagini dell'ultimo concerto del chitarrista 29enne di Corletto Perticara, Mirko Gisonte, che è tornato ad esibirsi al Teatro Stabile di Potenza. Un ritmo travolgente, luci colorate a disegnare le scenografie per uno spettacolo in cui l'unica protagonista è la chitarra e la sua musica. Mirko Gisonte, dopo tante piazze e tanti video, approda in un vero teatro, quello della città che l'ho visto studente, il cui fascino ottocentesco fa da magnifico contrasto all'energia moderna della sua musica dai ritmi diversi. E' un virtuoso e un appassionato della chitarra, Mirko Gisonte, che chiuso un 2018 trionfale, si prepara a nuovi traguardi partendo da qui, dal più importante teatro della regione. Tra due mesi sarò a Venezia, a fine maggio e inizi di giugno sarò in Turchia e poi ci sarà una tournée estiva veramente importante che mi vedrà protagonista. E io credo che iniziare qui dal tempio della cultura musicale lucana sia veramente il migliore auspicio per perseguire tutti gli obiettivi con fiducia e serenità. E io credo che iniziare qui dal tempio della cultura musicale lucana sia veramente il migliore auspicio per la cultura musicale,